cucù ciao a tutti eccomi qui con il secondo lavoretto natalizio allora per fare questo lavoretto oggi avremo bisogno di un vaso delle pigne raccolte io le ho comparate perché non le ho raccolte volendo potete anche spruzzarle con della neve artificiale sopra delle palline eccole qui e delle lucine led ok anche questo lavoretto è facilissimo quindi cominciamo per me a mettere le lucine led nel vaso e adesso andiamo ad inserire le pigne una pallina ogni tanto e e Grazie a tutti. Il mio lavoro finito, vedete io l'ho messo in questo angolino sul mio piano di cucina e il mio angolo di cucina quindi ragazze se penso che è veramente un lavoretto facile da fare con poche cosine non costa quasi niente perché un vaso palline e pigne in casa ce l'abbiamo tutti e però è un'ottima idea per fare un angolino bello per il periodo natalizio. Noi ragazzi noi ci vediamo al prossimo video, se il video vi è piaciuto lasciate un like e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!